con la morte di federico secondo avvenuta nel 1250 e si avviò un lungo periodo di interregno che durò sino al 1273 quando venne disegnato come nuovo imperatore rodolfo d'asburgo e gli riuscì in qualche modo a consolidare possedimenti della propria dinastia annettendo le attuali austria austria e slovenia ma non poter far nulla di fronte ai cantoni svizzeri che riuscirono a diventare indipendenti dall'impero dando luogo ad una nuova organizzazione l'unione di degli otto cantoni di tipo confederale dal momento che i singoli cantoni aderenti conservarono una piena autonomia e si regolamentarono con un proprio governo e con proprie leggi successivamente divenne imperatore nel 1308 Enrico VII di Lussemburgo il quale cercò di riportare i territori italiani sotto il controllo imperiale scese in italia nel 1310 e si presentò come il pacere tra i guelfi e i gubellini suscitando anche grandi consensi e grandi speranze tuttavia Enrico VII si trovò subito di fronte alle rivalità e le difficoltà che lo attendevano e morì improvvisamente nel 1313 senza riuscire in qualche modo a risolvere i problemi del potere imperiale. Nel 1338 ebbe luogo la dieta di Renz nell'attuale Renania Palatinato con la quale dieta si stabilì che la nomine imperiale aspettava solamente ai principi tedeschi il cui operato non necessitava in alcun modo del consenso o della conferma da parte del papa. Si assiste cioè ad una progressiva germanizzazione dell'impero l'area del potere imperiale si sposta sempre più nell'area tedesca. Infine con la bolla d'oro emanata nel 1356 l'elezione imperiale della dignità imperiale venne affidata in via definitiva a sette grandi principi elettori tre arcivestovi quelli di Magonza, Trevire e Cologna e quattro laici il conto del Palatinato, il duca di Sassonia, il marchese di Brandeburgo e il re di Bohemia. Costoro venivano inoltre associati nell'amministrazione dell'impero. Ogni anno dovevano riunirsi a Francoforte per distruttare gli affari più importanti con l'imperatore, il quale imperatore dunque diventava una sorta di primus inter pares, primo tra pari, primo cioè rispetto ai sette grandi principi elettori che lo avevano designato. Contemporaneamente anche la Chiesa non attraversò un buon periodo, tant'è che si parla di crisi dell'autorità imperiale. Dopo la rinuncia al sogno pontificio da parte di Celestino V nel 1295, a pochi mesi dalla sua elezione, divenne pontefice Bonifacio VIII, il quale riprese in mano il progetto teotratico dei suoi predecessori. Per prima cosa si assicurò una posizione di saldo dominio sulla città di Roma, che era scossa da conflitti, contrasti tra le opposte fazioni, tra i grandi famiglie nobiliari. Poi si pose come arbitro della politica europea, intervenendo nel conflitto tra Angiini e Ragonesi in Italia Meridionale, nella guerra tra Genova e Venezia e nella definizione della successione al Regno di Stozia, corona ambita dai sovrani inglesi. Nel 1300 organizzò il primo giubileo o anno santo della storia della Chiesa e in questa occasione affluirono a Roma milioni di pellegrini interessati a visitare le tombe dei santi Pietro e Paolo e di ottenere dal Papa l'indulgenza plenaria, cioè la completa remissione delle pene previste per i peccati commessi. Pene che dopo la morte l'anima del fedele avrebbe dovuto stontare nell'aldilà. Il successo del giubileo in qualche modo rinsaldò il pontefice nel suo proposito, nei suoi progetti di supremazia universale. Nel giro di pochi anni però questo progetto si rivelò un fallimento. Ad esempio Boniface VIII non riuscì a riportare gli angiuni sul trono di Sicilia e non riuscì in qualche modo a legare la città di Firenze e con essa tutta la Tostana al volere del pontefice. Anche se per la questione fiorentina intervenne e brigò ma senza riuscire in qualche modo ad ottenere in fin dei conti un controllo sulla vita politica della città. Ma allo stonto principale Boniface VIII lo ebbe con il sovrano francese Filippo IV il Bello. Il conflitto nacque dalla volontà del sovrano francese di imporre tasse anche al flero francese che per costituzione feudale era tutto esentato dal pagamento delle imposte. Il pontefice ovviamente da parte sua arriva di il divieto ai laici sotto pena discomunica di imporre tasse ai chierici e a questi ultimi di pagarlo. A questo punto Boniface VIII non si tirò indietro e proseguì sulla sua strada. A questo punto il Papa pretese di far giudicare il comportamento del sovrano da un concilio di Vestovi convocato a Roma di fronte al quale Filippo IV avrebbe dovuto distopparsi pubblicamente. Ma il sovrano vietò ai Vestovi francesi di partire per Roma e il 10 aprile 1302 giornì gli stati generali perché esancistero ufficialmente il principio dell'indipendenza e del potere politico da quello spirituale e quindi l'inammissibilità di ogni intervento o ingerenza della Chiesa nell'amministrazione dello Stato. Di fronte a questa energica reazione il 18 novembre dello stesso anno Boniface VIII pubblicò la Bolla Unam Sancta. Un documento a quel punto Filippo IV agì con la forza e inviò in Italia alcuni suoi uomini di fiducia a quello che catturava Boniface VIII per costringerlo alle dimissioni oppure in caso di resistenza per condurlo prigioniero in Francia dove sarebbe stato sottoposto al giudizio. Il 7 settembre 1303 il Papa venne sorpreso ad Anagni e catturato o sequestrato dai francesi. L'episodio è passato alla storia come il cosiddetto schiaffo di Anagni, ma il popolo di Anagni insorse e riuscì a liberare il Pontefice. Il Boniface VIII però non resta all'offesa subita e poco dopo il rientro a Roma morì. Il prestigio e l'autonomia del Pontefice uscirono quindi pesantemente indeboliti da questa vicenda, mentre la monarchia francese si conquistò una posizione preeminente napolica europea andando a sostituirsi all'impero nella contesa contro le pretese teocratiche della Chiesa. Del reso il fallimento di Beneficio VIII investiva i stessi diali universalistici del papato medievale e nel 1305 divenne Pontefice e lasciato il slovo di Bordeaux Clemente V. Inutilmente i cardinali lo invitarono a prendere il suo posto a Roma obbediente ai voleri del re francese nonché preoccupato per le lotte tra le opposte parti politiche che infiuravano nell'urbe, Martino Clemente V scelse di soggiornare, sia pure brevemente e temporaneamente, in Francia per poi fissare nel 1309 la sede papale ad Avignone. In questa città sarebbero rimasti i papi fino al 1377. Per quasi 70 anni il papato rimase sottomesso alla volontà dei francesi. Questo stato di soggezione venne chiamato cattività avignonesa.